Raccontaci i dettagli di quello che hai sentito, se puoi. Sai la parola inerfobo, che non si può esprimere con le parole? Cioè, wow, sono, non so, calma adesso, super super calma, mi sento, non la posso descrivere, però mi sento un attrattore di molto buone cose. Un magnete, sì, è bravo, esatto, lo sei.